Il prefetto di Crotone, Dottor Guida, ha nominato la commissione d'accesso che si è insediata ieri al comune di Rocca Bernarda. Il comune del Crotonese, lo ricordiamo, è stato al centro di una serie di attentati che ha provocato grande senso di preoccupazione tra la cittadinanza e che ha tratto l'attenzione particolare della stessa prefettura. Alla base della scelta di insediare la commissione d'accesso c'è l'ombra pesante di una indagine che ha portato ad una ordinanza di custodia cautelare di qualche mese fa nei confronti del responsabile dell'ufficio tecnico del comune che al contempo era anche assessore ai lavori pubblici. Alla base dell'ordinanza la concessione lampo di un nulla osta per la costruzione di un fabbricato di proprietà del presunto boss di Rocca Bernarda su cui indaga la procura antimafia di Catanzaro. Bisogna ricordare che il clima di intimidazione a Rocca Bernarda ha visto vittima particolare l'ex sindaco e l'ex comandante della stazione Carabinieri Francesco Coco che più volte ha invocato un intervento da parte delle autorità presso il comune. Il sindaco Bilotta ha consegnato alla commissione tutta la documentazione richiesta per il caso.